Ragazze buongiorno, eccomi. Mi vedete in una posizione, il telefono l'ho messo in un'altra posizione perché ho cambiato cover che probabilmente l'avrete vista nell'Enlol Sheen Shiglemma che costava un euro, un euro qualcosa. Mi sono decisa a cambiare cover però nell'altra, quella trasparente classica, avevo la calamita per attaccare il telefono. Insomma, buongiorno, è lunedì 11 aprile, sono arrivata all'azienda dove sto facendo docenza che è quella di settimana scorsa. Oggi sarò qui tutto il giorno, domani invece sarò in ufficio. Comincio un altro vlog, sono le 8.23, volevo appunto cominciarlo perché devo essere qui alle 8.30 e non è che posso arrivare troppo prima anche perché la docenza è comunque lunga. Detto ciò, il make-up di oggi ragazze è in super smaltimento, non metterò rossetto, vi dico la sincera verità per il semplice fatto che parlando tutto il giorno ho capito che proprio non c'è storia, bevo, faccio, disco e poi non è che ho il tempo di guardare, di essere in ordine. Magari in ufficio ogni tot guardo di non avere rossetto per chissà per la quale, ma qui la docenza è continua, quindi ok. Ho rimesso ragazze, ho sistemato sabato le giacche un po' primaverili eccetera. Se mi seguite da un po' sapete di questo cappottino di H&M che tra l'altro mi ricordo che l'anno scorso vi era piaciuto molto. Poi se riesco metto un post su Instagram così vi faccio vedere l'outfit. Su Instagram in questa, insomma, la scorsa settimana è stato veramente un po' per così dire complicato perché ho avuto una settimana molto complicata, non ci si lamenta del lavoro, però sono stata molto presa. Sicuramente non verrò qui a dire il perché e il per come, però insomma bisogna riuscire a stare dietro a tutto. Sicuramente Instagram è una cosa che viene dopo rispetto al lavoro e a tante altre cose. Comunque oggi spero a fine giornata, prima di allenarmi, di riuscire a mettere almeno un post perché sono un po' troppo latitante, vediamola così. Detto ciò ragazze, sono, dico questa cosa poi scusate nel mentre mi è arrivata una mail di lavoro perché scaricando Gmail non solo mi arrivano le mie ma mi arrivano pure anche quelle di lavoro che leggo perennemente, va bene. Detto ciò, dicevo, dico questa cosa poi vado a lavorare. Ieri sera, ieri sera domenica, abbiamo avuto una giornata emotivamente complicata ma non starò qui a dire i motivi, il perché e il per come però alla sera ho ricevuto dei commenti su vecchi video, tra l'altro vecchi, non recenti, non vecchi, vecchi non mi piace, video non recenti, ecco. Di una persona che di per sé non è stata maleducata, o meglio, non è stata maleducata del tipo o con qualche parola accia, offensiva, eccetera, no? Perché secondo me la maleducazione si distingue in essere offensivi, e scusate controllo l'ora, e in essere offensivi in maniera velata. Ecco, questa persona è stata offensiva in maniera velata, ma vi dirò lo sto dicendo non tanto per perché chissà quale motivo, perché io l'ho bloccata sul nascere, nel senso che ho proprio bloccato l'utente, perché cioè, ne è arrivato uno, poi due, poi tre, ho detto no, tronchiamo la cosa sul nascere, perché assolutamente eh, non credo che eh, YouTube sia il luogo, perché ricordiamoci sempre che chi fa contenuti li fa per diletto, per divertirsi, per svago, per condivisione di quelle che sono le proprie esperienze, le proprie opinioni. In relazione a ciò, ricordatevi sempre che quando, io lo dico sempre, e correggetemi se sbaglio, ovviamente sono un po' sarcastica, se io vi dico, vi descrivo un acido ialuronico, poniamo il caso, un siero ve lo descrivo, vi faccio vedere la texture, sapete che faccio le beauty recensioni con applicazione vi dico se mi piace o se non mi piace, vi faccio vedere la texture poniamo ad esempio il caso di quello di Biofitorelax che per le più appassionate dovreste sapere che se l'avete anche provato e avete visto poi la mia beauty recensione io l'avevo bocciato in tronco perché era estremamente liquido faceva un sacco di effetto saponato, non si assorbiva bene ti lasciava la pelle a mio avviso, il mio ricordo, era anche di una pelle sporca insomma non lo so l'effetto saponato mi alterava ogni tipo di tipologia di sensazione sulla pelle io però non ho mai detto di essere una farmacista, una cosmetologa, una persona che lavora con queste cose, magari lavorassi con queste cose ragazze ma magari, magari, credo anche mie amiche di youtube, delle mie amiche di youtube gli piacerebbe riuscire a alzarsi la mattina e avere lo stipendio su cose che ci piacciono e ci divertiamo ed è bello parlare sempre di queste cose io non ho mai detto di essere questo io dico sempre, sempre io vi dico la mia opinione quella che è la mia considerazione l'applicazione su di me vi descrivo cosa c'è dentro però è ovvio che un siero a me può piacere alla mia amica non può piacere a tizia può dare uno sfogo e questo discorso vale anche sul make up soprattutto per i prodotti cremosi ora, credetemi, non è che sono arrabbiata anzi, perché ho proprio cancellato in tronco il commento però veramente cioè, chi fa contenuti a meno che non dica ho una farmacia e ci sono delle farmaciste che hanno anche le pagine instagram e le pagine youtube però ragazze un conto è farlo di mestiere sempre un conto è condivisione delle proprie passioni di quello che piace di quello che non piace certo io leggo mi informo eccetera ma faccio altro nella vita magari facessi queste cose magari con tutto il rispetto per chi riesce a viverci e lo dico proprio sinceramente però prima di cominciare a commentare bla 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 magari informatevi su chi state guardando e se non avete voglia di guardare piuttosto che sprecare tempo fate altro vado al lavoro ciao eccomi ragazze buongiorno sono arrivata al lavoro in ufficio sono adesso entro sono le 9 meno 10 ho già lasciato un pacco vinted che però è stato acquistato un prodotto di mia cugina perché vi ho raccontato appunto che alcuni prodotti le mi hanno dati da mettere su vinted e le ho fatto questo siccome alcuni li ho io l'ho fatto adesso sono le 9 meno 10 due minuti e entro allora come va come va rispetto a ieri un pochettino meglio nel senso che mi sono un po' schiarita le idee da questo punto di vista spero che il messaggio si sia recepito si sia capito ieri quando ho finito di lavorare mi è arrivato un altro commento che ho subito cancellato ma ho cancellato per il semplice fatto che cioè secondo me veramente al di là che sono dei nomi di alcuni account che uno dice vabbè però non mi va proprio di intavolare il discorso nel senso che comunque io ribadisco e spero che il messaggio si capisca youtube non è il mio lavoro mi piace la condivisione ma come la maggior parte delle persone che io seguo e potranno confermarmelo in questo vlog come dire polemicoso scusate che nella via dell'ufficio sapete che c'è sempre un po' di gente me lo potranno confermare tutte facciamo altro condividiamo quella che è la nostra passione quelle che sono i nostri consigli mi trovo meglio con questo mascara mi trovo meglio con quell'altro contorno occhi questo ha una texture più corposa l'altro ha una texture più liquida insomma spero che il messaggio si sia capito in ogni modo io ribadisco anche che youtube è una piattaforma molto ampia ci sono tantissimi contenuti ci sono tantissime ragazze che fanno contenuti si può seguire chi si vuole si può seguire chi si vuole si può supportare chi si vuole in maniera educata e soprattutto costruttiva perché è vero che sono cose leggere ma bisogna anche essere educati a mio avviso nella vita poi se avete altre filosofie a riguardo possiamo anche parlarne però credo che sia abbastanza logico detto ciò da ieri ho fatto l'allenamento ho le labbra super secche adesso credo che metterò un idratante o la iampupa che ho d'emergenza che conoscete che ha una grossa componente idratante non so il motivo non ho raffreddore non ho nulla di tutto ciò ho le labbra super secche perché ieri nell'allenamento c'era molto molto vento quindi insomma questo come makeup ragazze palettina di essence in smaltimento niente di nuovo sul fronte occidentale sono giornate un po' fagocittate lavorativamente la settimana di Pasqua insomma un po' di cose quindi niente questo entro al lavoro che sono le 8.53 ho da fare un bel po' di cose perché appunto vi ho detto che avendo avuto docenza fuori ufficio diversi giorni e non è ancora finita insomma devo un po' giostrare il lavoro anche in ufficio perché perché sì vado e ci vediamo credo domani con la continuazione di questi sproloqui in macchina credo sì ciao ragazzi buonasera mamma mia sono arrivata a casa ho parcheggiato voglio trovare la forza di scendere dalla macchina per andare in casa mi sono allenata ieri come vi ho detto in realtà potrei anche andare in casa e stasera non fare la corsa ma fare la camminata però onor del vero devo essere onesta ho da fare un po' di cose a casa perché poi domani mi alleno cioè potrei anche sbattermene i cosiddetti però insomma cioè neanche farlo diventare troppo una cosa esagerata non lo so quindi questo adesso il signore dietro la mia macchina sta andando via potrei farlo andare via fare manovra andare indietro di modo che sono a posto vediamo adesso decido qui la via di casa mia veramente sta diventando peggio del Bronx perché veramente la gente in auto non ha più religione come dico io comunque ieri ero fuori ufficio stamattina ho visto che mi hanno messo sulla postazione un prodotto che ho preso su Amazon scontato da 19,90 a 13 e qualcosa che ha segnalato una ragazza che seguo su Instagram che è una skin influencer che già vi ho nominato Sonia Skin una cosa di questo tipo che lei ne parla benissimo io mi sono fidata a occhi chiusi avevo voglia di provarlo a maggior ragione se è in offerta quindi questo c'è un incidente in corso no vabbè questo qui ragazze che è una Essence Mucin Power Essence Advanced Snail 96 che è una Essence al siero di vipera ragazze vediamo se c'è in italiano mi sono fidata perché la seguo da un po' e lei ne parla tantissimo nelle storie è il 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 96% della Bava di Luma che è un'essenza che riduce la perdita d'acqua da parte della pelle permettendole di mantenere un aspetto sano una struttura liscia idratata tutto il giorno è una Essence io non ho mai provato nulla di questo brand devo andare a curiosare su Yes Style è veramente tantissimo che non prendo nulla da Yes Style però sto smaltendo anche tante cose è già da un po' che dico guardo faccio Disfo ed è un po' che non faccio ordini però con il cambio stagione poi preferisco valutare di volta in volta avete visto che adesso ho preso un po' di detergenti insomma vediamo sapete che poi vi aggiorno però questa qui in super mega offerta su Amazon ho detto posso concedermela senza troppi fronzoli e vedremo un po' com'è adesso come Essence da sera sto finendo quella di nel packaging in garancione e ho finito quella rossa che è ancora quella di privaglia ma quella rossa l'ho finita già da un po' mi sta sfungendo la marca che ce l'ho sempre sulla punta della lingua in questo momento non me lo ricordo comunque questo prodottino qui sono molto molto curiosa vedremo ragazze fatemi sapere se lo conoscete nel caso che cosa ne pensate devo ricordarmi di mettervi il nome della Skin Influencer che seguo che a me piace molto non lo so perché ma a pelle mi piace secondo me è molto brava ne ha parlato benissimo ed è anche lei che mi ha un po' influenzato su un SVR anche Kate eccetera ma lei soprattutto che ho visto le storie sull'olio detergente di SVR che non sono riuscita a prendere mannaggia però insomma troppe influenze detto ciò ragazze mie belle facciamo che io vado in retro così chi poi arriva parcheggia bene visto che si è liberato questo posto vado in casa faccio un attimo di valutazione e cerco di sistemare le cose che ho da fare in casa perché se faccio la camminata stasera ieri mi sono allenata con la corsa stasera camminata domani corsa poi conoscendomi mi viene in odio quindi manteniamole tre volte perché anche la dietista me l'ha detto non deve diventare ansia non deve diventare stress più di quanto già io non la sia stressata il che è tutto dire eccomi ragazze buongiorno sono arrivata al lavoro ho parcheggiato non mi piace il modo in cui ho parcheggiato però ho fatto un giro insomma vabbè discorsi a parte due minuti e entro oggi abbiamo il corso di primo soccorso poi ho altre miriade di cose da fare oggi saremo fuori per un appuntamento appuntamento di lavoro recupero le chiavi ragazze sono già truccata ho già messo I am poop in super smaltimento le labbra secchissime in questo periodo questo mi piace anche perché essendo molto creamy non solo ha un bel colore su questo make up però è anche un po' idratante quindi va bene ed è in smaltimento ho fatto un trucco opaco ragazze oggi con la Cat Eye Cat Eye di Sephora che è una palettina che mi ha portato a casa mia mamma da una Sephora da un loro viaggio in America carinissima e l'anno precedente mi aveva preso la Norvina di Anastasia Beverly Hills oggi avevo voglia di un trucco opaco cosa dite? vedete che ho fatto un effetto eyeliner simile maglietta ho rimesso l'altra cover del telefono perché l'altra è carina che non so se avrete già visto il video però ne ho presa un'altra a un euro quindi niente di eclatante però molto carina il problema è che il mio portatelefono in macchina ha la calamita e ho messo una calamita su questa cover trasparente e di conseguenza l'altra è bella 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 ma è scomoda mi devo far ridare da mia mamma un portatelefono che di per sé ho ancora qui pensate il porta che le avevo dato quando avevamo preso lo Xiaomi a lei però non lo usa e questo qui a differenza di quello che ho adesso è bello perché ha il portatelefono quindi me lo faccio ridare di modo che a seconda della cover che ho io ho tutte e due va bene perché io sono gentile ma poi la gente non usa le cose che presto vabbè detto ciò io non so effettivamente cosa sia venuto fuori da questo vlog scusate tra l'altro questo era il barista mentre parcheggiavo ma pure salutato perché abbiamo il bar davanti all'ufficio dicevo che questo vlog sicuramente è stato uno sproloquo in macchina mi scuso per l'aspetto un po' polemicuccio però sapete che ogni tanto io sono polemica ma polemica sperando di far passare il messaggio giusto fatemi sapere che cosa ne pensate sapete che il confronto costruttivo è sempre utile per tutti quello maleducato no iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte lasciatemi un like di supporto e ricordatevi di seguirmi anche dove su instagram dove mi trovate come c4kate e al prossimo video ciao ciao